Il piano di zona è ancora fermo nell'esplicare il bando di assunzione per gli operatori che dovrebbero completare l'ufficio di piano. A sottolinearlo in una nota il membro del direttivo provinciale del Partito Democratico Antonio Cesarano, per il quale la conclusione in tre anni di incongruenze e irregolarità continue ci porta a considerare la peggiore delle ipotesi, che ci sia una volontà collettiva a non permettere il funzionamento di questo strumento. Intanto ai cittadini vengono forniti servizi e sussidi ad intermittenza, moltiplicando i disagi per fasce di utenza già svantaggiate. Gli scandali che hanno colpito Roma, continua Cesarano, debbono porre ancora più attenzione al mondo del terzo settore, imponendo la massima trasparenza nelle procedure di gare e di utilizzo dei fondi. Il prossimo triennio, il piano di zona Salerno 1, dovrà utilizzare i fondi previsti dai PAC, piani di azione e coesione, milioni di euro indirizzati ad anziani diversamente abili e alla prima infanzia. Fondi che, sottolinea Cesarano, devono essere gestiti nella massima trasparenza. Per questo chiediamo che il coordinatore renda pubblico il primo possibile la programmazione prevista per l'utilizzo di questi fondi. Ma sul funzionamento del piano di zona, la responsabile Maddalena Di Somma la pensa così. Noi abbiamo fatto un lavoro di alcuni mesi molto pesante e finalmente siamo riusciti a riattivare quasi tutti i servizi. C'è stato un bando rispetto al quale sono arrivate 1040 domande, quindi potete immaginare la difficoltà di gestire un numero di domande così elevato. Ma credo, entro breve, noi saremo pronti con la pubblicazione degli ammessi ai colloqui. È chiaro, è una procedura un po' lunga e per cui non eravamo preparati a questo numero di domande così elevato. Ancora qualche mese poi daremo delle risposte concrete anche ai candidati, ma stiamo già lavorando, seppur con personale a tempo determinato e assunto anche a tempo parziale e determinato. Noi siamo presenti, stiamo lavorando e stiamo collaborando con tutti gli enti preposti, anche con gli operatori economici che operano sul territorio, con le cooperative, con il terzo settore, con le forze dell'ordine.